Monotech Dono Audi Che c'è? Oh bella Dove sta andando? Domani facciamo un mega trappone Vieni a casa e facciamo il beauty Per fare? Un pezzaccio della Madonna 20 mesi Per fare un pezzo? Un trappone? Per fare un video Un reno Che si può fare? Domani pomeriggio sto a casa tua Bella